Una saponetta sotto le lenzuola è un metodo che può garantire sonni tranquilli, specialmente per chi soffre di problemi come i crampi alle gambe. Alcune persone soffrono della sindrome delle gambe senza riposo, un disturbo neurologico del sonno che provoca fastidi e dolori che ostacolano il riposo notturno. Mettere una saponetta sotto le lenzuola può quindi rappresentare un valido rimedio per contrastare questo problema. Non ci sono studi scientifici o ricerche mediche che confermano questa tesi, in ogni caso sembra che questo metodo sia davvero efficace. Ad agire positivamente pare sia il magnesio contenuto nel sapone, sostanza importante per alleviare i dolori e il gonfiore delle gambe.